Eccoci qua. Allora, protezione della posta. La prima cosa che devo analizzare è lo scenario in cui ci muoviamo. Lo scenario in cui ci muoviamo deriva dal rapporto di Verizon, rapporto del 2015, quindi un'analisi su tutto quello che è successo, ambito email all'interno del 2015 e Verizon individua due scenari principali, quindi quelle che sono le principali categorie legate non tanto allo spam di per sé, ma legate alle minacce che possono essere veicolate tramite la posta. E tra queste, una di quelle che spicca in maniera più sistematica è il social phishing, che continua a essere uno dei maggiori vettori di minacce con una crescita esponenziale rispetto ai cinque anni precedenti, ovviamente poi anche l'hiking in malware, ma quello che a noi ci va interessare, propriamente legato alla posta elettronica, è proprio questo social phishing, che è uno dei veicoli primari su cui viene sparato il ransomware. E l'altro scenario che è assolutamente inquietante, ci fa comprendere quanto sia fondamentale avere in piedi un sistema di data leakage prevention che va a impattare anche sul discorso della posta elettronica è l'analisi su quali siano i principali attori nell'ambito delle minacce, quindi la diffusione delle minacce non riguarda solo quello che entra all'interno dell'azienda, ma anche quello che può venire spedito fuori, quindi tecniche di data leakage prevention. L'interno dell'attacker risultano essere assolutamente i più insidiosi in quanto conoscono la rete in cui vanno ad operare. Quindi bisogna mettere insieme, da un lato, la protezione di quello che arriva da fuori con un meccanismo di protezione da quello che può scatenarsi da dentro. E quindi, facendo il punto su quali sono le principali minacce e minacce, le principali incombenze che possono essere legate alla mail. La mail è indubbiamente l'elemento critico nelle comunicazioni aziendali, ma può essere anche un'opportunità di sabotaggi all'attività di business dell'azienda. Individuiamo quindi cinque elementi primari legati alla posta elettronica, innanzitutto lo spam, quindi elevati i volumi di mail non volute, che possono congestionare l'inbox dei propri dipendenti, come pure anche le risorse locali della macchina o addirittura le risorse di rete, producendo un'inevitabile parata di tempo lavorato per il dipendente che doveva gestire lo spam. E' un conseguente aumento dei costi operativi, quindi cala la cosiddetta produttività. Di per sé lo spam non è una vera e propria minaccia, è solo un elemento, tra virgolette, disturbante. L'altra situazione sono i virus e i malware, inseriti dai cybercriminali nelle mail, che possono essere scaricati sui computer delle vittime, consentendo quindi agli attaccanti di ottenere quell'accesso alle risorse di sistema, sia per rubare informazioni che per far colassare i computer, oppure prendere in ostaggio il sistema per propri scopi futuri. Il ransomware, anche se ha un tempo di vita limitato, rientra indubbiamente in questo tipo di operatività. Il phishing, invece, è un altro trucco utilizzato dai cybercriminali, che consiste nell'inserire all'interno delle mail dei link ai siti che i destinatari considerano sicuri, e sui quali quindi non hanno dubbi ad operare, inserendo proprie informazioni confidenziali, proprie credenziali d'accesso, che possono essere quindi successivamente utilizzate per rubare identità, oppure per compromettere dati aziendali. Data leakage prevention, quindi anche le mail in uscita, possono esporre l'azienda a grossi rischi, come ad esempio gli attacchi di tipo zombie, l'EPA jacking, che può demolire la reputazione dell'azienda, aziende che operano esclusivamente online e che hanno situazioni contingenti che le portano a un drastico calo della reputazione online, possono chiudere i battenti nell'arco di veramente poco tempo. Quindi è la condizione della verifica di quello che esce dall'azienda una cosa molto importante. E infine alla conformità, le mail in uscita sono tipicamente soggette a polizie aziendali oppure a normative governative. Sapete che a breve è entrato in vigore il nuovo atto europeo legato alla protezione del dato personale, che diventerà operativo da qui al 2018. Operativo vuol dire che presenterà la possibilità di avere sanzioni, quindi anche quello diventa una nuova normativa da dover gestire anche a livello di posta elettronica. Alcuni esempi di brecce che sono stati veicolati proprio attraverso attacchi di phishing. Qui abbiamo Apple in Cina, abbiamo Amazon, abbiamo Sony, abbiamo grossi player in questo caso che fanno un sacco di rumore. Non dimentichiamoci che qualsiasi tipo di azienda può essere target, indipendentemente che si chiami Sony o che si chiami Amazon. Perché? Perché ci sono determinati tipi di attacchi che sono attacchi non mirati, il ransomware è l'esempio principale, che sono attacchi a strascico. Quindi una volta che viene iniziata una campagna di phishing, una volta che viene utilizzato un particolare exploit kit per colpire un sito vulnerabile su cui ci vanno molte persone, questi tipi di attacchi sono legati alla quantità, non alla qualità dell'attaccato. Quindi anche il ransomware, uno dei principali veicoli di diffusione sono le medifishing, si assiste quindi a ripetute infezioni in aziende già colpite. Questo è anche un dato molto interessante. Quindi aziende che sono state colpite la prima volta da un ransomware, nel tempo, e anche in tempi brevi, vengono nuovamente ricolpite da fenomeni di ransomware. Questo è un sintomo che il fattore umano è assolutamente determinante, quindi anche il fatto di mettere in piedi tutta una serie di attività di formazione del personale, una cosa che sarà prevista dalla normativa, dal GDPR che lo prevederà, quindi, e sarà sanzionata la parte di non addestramento del personale, come pure è sintomo del fatto che c'è necessità di avere tra l'utente e il mondo connesso uno strumento di filtraggio che sia capace di superire anche a questo tipo di istituzione, a questo tipo di ripetitività. Diventa quindi indispensabile una tecnologia che possa mitigare la persistenza dell'errore umano. La nuova tendenza con cui ci stiamo sempre più scontrando, è indubbiamente sempre più scontrata, sempre più avendo a che fare, è il cloud. Gli analisti, parliamo sempre di Verizon, prevedono che la migrazione a soluzioni in quale Microsoft Office 365 oppure Google Apps accelererà in modo significativo nei prossimi anni. E secondo Gartner, invece, entro il 2022, la percentuale di utenti business forniti in tutto e in parte con soluzioni Office interamente in cloud, crescerà al 60%, raggiungendo quindi 700 milioni di utenti. Nel solo 2015 l'incremento è stato del 15%, quindi è una tendenza, un driver molto forte, e quindi il consolidamento di soluzioni e servizi forniti in cloud. Qual è la conseguenza per le mail? La posta elettronica è una delle funzioni fondamentali di queste soluzioni, rappresenta indubbiamente il primario punto d'ingresso alla rete aziendale, tanto che le previsioni sulle minacce avvicinate via mail sono in continua scesa, rappresentando quindi una vera sfida per passare al cloud office. Quindi è un punto dirimente il fatto che il sistema di posta venga considerato talmente sicuro da procedere alla migrazione di tutta una serie di servizi in cloud. Il rapporto di Verizon sui data breach del 2015 ha rivelato che oltre i due terzi degli attacchi di cyber spionaggio sono stati contotti attraverso mail di phishing, quindi vedete com'è fondamentale il concetto di protezione della posta nel passaggio al cloud. L'attacco ora non ha più il mero scopo di capire informazioni, ma bensì di stabilire una persistenza sui dispositivi delle vittime, creando quindi una sorta di campo base da cui l'attaccante può continuare la marcia all'interno della rete attaccata. Quindi rientriamo in quelle che sono gli scenari di Advanced Persistent Threat, dove si sta all'interno dell'azienda per qualche mese, per qualche semestre o per qualche anno. Ci sono stati breaches che sono durati veramente dei periodi molto lunghi e che hanno portato quindi alla possibilità da parte degli attaccanti di avere indubbiamente una quantità di informazioni elevatissima. E proprio per quanto riguarda la problematica legata alla sicurezza di uno degli strumenti principali dell'offerta cloud, anche Microsoft, che è uno dei principali fornitori, corre ai pari. E per proteggere il proprio Office 365, che è il prodotto di punta dell'offerta cloud prodotta da Microsoft, è stato predisposto a un sistema di protezione dedicato, che è l'Exchange Online Protection, in grado di fornire anti-spam filter, protezione dell'antivirus, enforcement di policy, disaster recovery e servizi di directory. Tre giorni fa, il 27 giugno, su SC Magazine, è uscito il nuovo brecce su Office 365, condotto dal ransomware Cerber, che potenzialmente può mettere alla berlina 10,8 milioni di account Office 365. E questa variante di Cerber, è una variante di Cerber, quindi è un malware che era già presente, è stata creata una variante, e questa variante ha reso possibile quindi il bypass della sicurezza prevista all'interno di Office 365, gli strumenti di sicurezza previsti da Office 365, attraverso un account mail privato di Office 365, che è servito come punto di spread. Nelle stesse note tecniche, nelle FAQ di Office 365, ci sono delle domande e risposte, in cui chiedono come mai il malware ha eluso i filtri. I motivi che riporta il fornitore del servizio sono essenzialmente due. Nel primo e più probabile scenario, ipotizzano, l'allegato ricevuto non contiene alcun codice gannoso attivo. Ricordiamoci che il malware ha tutta una serie, utilizza tutta una serie di tecniche, che fanno in modo di renderlo nascosto, quindi anche il fatto di rendere un attivo, il fatto di comportarsi in un certo modo se rileva di venire attivati in un ambiente virtuale, sono tutte tecniche di elusione che sono assolutamente utilizzate dai sistemi. Quindi uno strumento di protezione della posta deve essere in grado di capire se esiste il malware, non solo se è il malware attivo. In questi casi, quindi, alcuni motori anti-malware potrebbero non essere più aggressivi e bloccare messaggi con payload troncati. Nel secondo scenario, invece, il malware ha ricevuto una nuova variante, una nuova variante in cui non ci sono ancora le signature. Quindi stiamo parlando dei sistemi che fanno dell'analisi, che fanno della verifica dell'utilizzo di signato sostanzialmente il loro principale meccanismo di protezione. Quindi un'analisi reattiva, non stiamo lavorando in maniera operativa o predittiva. Quali sono quindi desiderata di quello che può essere un sistema di protezione efficace? Quindi per combattere la sofisticazione delle minacce odierne che vengono vengate attraverso le mail, le aziende hanno bisogno comunque di soluzioni avanzate per la protezione dell'ufficio in cloud in qualsiasi direzione. Quindi analisi della posta in ingresso, analisi della posta in uscita, anche perché in questo modo siamo sicuri del fatto di non finire in blacklist o di far parte di una botnet. Anche se quasi ogni fornitore di soluzioni per l'ufficio in cloud offre una protezione di base dalle minacce veicolate tramite posta elettronica, una sicurezza completa delle mail richiede tecniche avanzate, policy di gestione granulari e reportistica molto molto flessibile. Queste sono le condizioni da considerare quando valutiamo un sistema di protezione della posta. E veniamo quindi a quella che è la nostra proposta. Dell Sonic World ML Security. La slide era così, quindi ho lasciato anche al marchio il riferimento a Dell. Per ora è stabile come riferimento. La soluzione Sonic World propone diverse soluzioni, l'offerta Sonic World si compone di diverse soluzioni, tutte, quasi tutte, forniscono scansione della posta in ingresso e in uscita per identificare quindi sia le bad email, quindi quello che può essere spam, quello che può essere phishing, quello che può essere virus, sia le mail che contengono invece informazioni finanziarie, quindi mail in uscita per la data leakage prevention. L'altra condizione essenziale è quella di applicare regole stabilite dalle policy aziendali per bloccare, oppure per mettere in quarantena o criptografare le mail in base al loro contenuto. Quindi c'è un contenuto che può essere un contenuto della me stessa, un contenuto degli allegati, quindi ci sono tutta una serie di meccanismi di controllo su quello che sono i flussi della posta per andare a identificare un'eventuale data leakage. Da un punto di vista dell'installazione on-premises abbiamo diversi scenari operativi, abbiamo le soluzioni artenizzate, ESA 3003, ESA 4003, ESA 8003, abbiamo le soluzioni su piattaforma, come software per ambienti Windows Server, da notare che il prodotto Windows Server consente anche l'installazione supportata, quindi esiste il supporto a pante del vendor su macchine in ambienti Hyper-V, quindi la soluzione Windows Software può essere utilizzata anche in ambienti Hyper-V. E la Virtual Appliance invece è una soluzione che può essere completamente inserita all'interno di un ambiente VMware, quindi sono appliance che avete disponibile con diverse capacità già di stoccaggio che possono essere inseriti in SXI e SX. Sempre on-premises, esiste una soluzione di mezzo che si attiva sul firewall, si chiama Comprehensive Anti-Spam Service, in questo caso è un servizio ibrido che opera in maniera parziale, quindi la parzialità di questo servizio legata sul fatto che la scansione della posta è solo relativa alla posta in ingresso, quindi non fa analisi della posta in uscita, e lavora sul firewall facendo leva sull'analisi reputazionale del mittente principalmente, quindi è un servizio di rimbalzo che lavora sul firewall e lavora appoggiandosi quindi in Cloud Service dove da una parte viene primariamente fatta un'analisi di tipo reputazionale e successivamente un'analisi ed eventualmente un'analisi a livello di contenuti della posta. Però non risiede questo tipo di analisi sul firewall stesso, quindi il firewall ha solo la necessità di poter garantire un numero di sessioni sufficienti per gestire rimbalzi. E infine il servizio di email security hosted, quindi un servizio cloud-based basato sulla stessa tecnologia dell'email security che può essere quindi rivenduto come tipo di servizio senza necessità alcuna di modifica dell'infrastruttura della rete tranne la redirezione del record MX sul sistema di pulizia messo a disposizione dal vendor. Quali sono quindi le caratteristiche principali della soluzione? Per venire in conto alle esigenze delle piccole e medie imprese Sony Cloud Management Security implementa una soluzione di classe enterprise all'interno dei propri prodotti di protezione della posta. Innanzitutto abbiamo una protezione multilivello brevettata, ci sono 14 brevetti già acquisiti per le soluzioni email security di Sony Cloud e in realtà in pregestione di spam, virus, malware, riconoscimento dell'attività di tipo zombie e attacchi di tipo phishing. Abbiamo la gestione di una reportistica automatizzati direttamente a bordo del sistema, abbiamo la gestione nella verifica delle conformità normative in modo da porteggi dal perdita dei dati confidenziali o dalle violazioni delle regole aumentazioni. Abbiamo delle opzioni di schieramento molto flessibile per rispondere anche a requisiti dell'infrastruttura aziendale differenti o che cambiano nel tempo, includendo quindi differenti opzioni di installazione off-site oppure in servizio cloud. La soluzione My Security Sony è quella progettata assolutamente per scalare sia in ambito prestazionale che in ambito di garanzia di maggiore disponibilità e continuità di servizio. Quindi abbiamo quella configurazione che si chiama Split Architecture che consente di andare a creare una soluzione di anti-spam articolata su più livelli per garantire grosse capacità di pulizia e ridondanza delle soluzioni di analisi e di stoccaggio. Abbiamo in Italia alcuni scenari operativi che si basano sull'architettura Split di Sony dove ci sono batterie di 3-4 remote analyzer e ridondanza dei control center che consente quindi andare a gestire policy e quarantena degli utenti per dei volumi di utenze decisamente molto elevati. Il vantaggio è che un'architettura di tipo split con le soluzioni e mail security consente di gestire come remote analyzer qualsiasi tipo di apparato e mail security quindi ci può essere una commissione di elementi all'interno di una soluzione split quindi possono essere remote analyzer formati in mail security software mail security virtual appliance mail security hardware appliance control center anche in questo caso misti un hardware con una ridondanza sulla soluzione virtualizzata ok consente quindi anche una sorta di economicità nella gestione della della soluzione da 5 50 mila caselle sì beh anche anche di più abbiamo la possibilità di gestire diciamo che poi il dimensionamento non viene fatto tanto in base al numero di caselle ma viene fatto anche in base alla quantità di mail che supponiamo che supponiamo di ricevere quindi la mail giorno diventa il il parametro fondamentale per poi andare a dimensionare il sistema se non ricordo male sul sito del vendor c'è anche uno strumento di dimensionamento dedicato proprio alla soluzione mail security rispetterà anche il GDPR certamente assolutamente in linea con le nuove con la nuova normativa su quello ci sarà poi non già in programma di fare a breve una sessione dedicata proprio al GDPR allora vediamo poi quali sono le tecniche di scansione quindi la moltiplicità di quelle che sono le tecniche di scansione allora innanzitutto la soluzione mail security utilizza un approccio multilivello come abbiamo detto prima della protezione della posta e la prima soluzione è utilizzare un filtro tipo baesiano per l'individuazione dello spam un filtro baesiano è un filtro che consente di utilizzare uno strumento di probabilità condizionata ed è molto efficace per andare a individuare una mail di spam di phishing una mail di spam oppure una mail di phishing condizionata in base proprio a alcuni elementi che sono previsti all'interno della mail quindi questa funzionalità di condizionamento della probabilità di individuazione è molto efficace nell'individuazione in maniera certa di una mail di spam di phishing piuttosto che di virus likely virus abbiamo delle tecnologie ovviamente anti-spam anti-phishing abbiamo delle tecnologie anti-spoofing quindi importantissime da utilizzare e che consentono effettivamente di raggiungere dei livelli se tutti utilizzassero questo tipo di tecnologia praticamente non esisterebbe assolutamente spam all'interno all'interno di internet abbiamo l'SPF come metodo di verifica quindi Sender Policy Framework è uno standard aperto che consente di prevenire la contraffazione dell'indirizzo del mettente e che protegge quello che è l'envelop Sender Address quello che è indicato nel Return Path in modo che non venga abusato da altri ok l'alternativa è il D-Chim invece il Domain Case Identify Mail quindi possono essere utilizzato in maniera anche alternativa all'SPF e al D-Chim è una tecnologia per la verifica di una firma digitale inserita nel messaggio utile quindi per attribuire una buona reputazione ai mettenti corretti e quindi creare un sistema virtuoso di analisi della reputation e infine D-Mark D-Mark è uno degli elementi indubbiamente più importanti una delle evoluzioni più fondamentali delle contromisure contro lo spam il phishing e per la protezione della posta un domain based message authentication reporting e conformance è uno strumento che lavora in tandem con SPF e D-Chim per l'autenticazione completa dei messaggi in ingresso e in uscita consente quindi al mittente di indicare se la sua mail è protetta da SPF o D-Chim e specifica quindi al ricevente come comportarsi nel caso questi meccanismi di autenticazione non abbiano funzionato quindi dirgli se non ha funzionato se non funziona la verifica del SPF puoi mettere la mia mail all'interno della junk oppure puoi fare un reject della mail sulle macchine SonicWall il dimark è utilizzato in maniera esistiva anche per produrre una reportistica molto raffinata su quelle che sono le su quelle che sono l'audit della mail che entra e che esce dalla rete e inoltre abbiamo cinque motori antivirus dedicati abbiamo il grid antivirus abbiamo McAfee abbiamo Kaspersky abbiamo Siren e poi abbiamo il TimeZero che è una soluzione che consente di andare a adesso la vediamo un po' più in dettaglio sulla mail successiva ok come viene il flusso delle mail in ingresso il flusso delle mail in ingresso si compone di due elementi particolari un'analisi a livello di connessione e un'analisi più approfondita a livello di contenuti quindi le mail in ingresso vengono controllate per verificare che il mittente non sia uno spammer noto mediante quindi l'analisi delle liste di autorizzazione e di blocco a livello corporate o a livello utente e controllando ovviamente il database di reputazione mantenuto da SonicWall quindi c'è una sequenza predefinita con cui vengono analizzate le mail in ingresso principalmente diciamo la prima linea di controllo è le liste custom quindi quelle prodotte dall'utente se abbiamo una whitelistata un utente quello ovviamente bypassa completamente tutti i filtri fino ad arrivare quindi come vi dicevo elementi di controllo più generalizzate legate alla reputazione mantenuta in questo caso da SonicWall oltre alla reputazione del mittente vengono anche controllate la reputazione dei contenuti nella mail la sua struttura i link le immagini e gli allegati ci sono specifiche tecniche ad esempio che vengono applicate per individuare gli attacchi di tipo directory harvest quindi attacchi che vanno a ricercare un eventuale utente all'interno del all'interno dei riferimenti mail noti attacchi di tipo DOS per prevenire il fatto che il sistema di antispam possa essere messo o il sistema di mailing possa essere messo down e anche per valitare il mittente in questo caso il bonus ad retac validation e il grade listing la lista è una tecnica dove dice ok aspetto la prima mail che ricevo da questo utente per ora la rigetto e verifico se viene nuovamente re-noltrata se viene nuovamente re-noltrata in un intervallo di tempo che ho definito a questo punto quella mail diventa accettata perché è un sistema valido che mi ripropone nuovamente le mail queste analisi a livello di connessione consentono di gestire circa l'80% dello spam e delle altre minacce prima che la mail venga analizzata quindi prima di andare a impiegare risorse quindi questa analisi di reputazione fa già un grosso lavoro senza andare a pesantire la soluzione di protezione infine abbiamo un'intelligenza sofisticata che viene utilizzata per analizzare il contenuto della mail come ad esempio ci parlava prima del filtro basiano adversarial una variante ok come filtraggio come vi dicevo prima della probabilità condizionata che dato un determinato evento l'evento condizionato si possa verificare l'analisi delle immagini e l'individuazione del gibberish gibberish al rumore di fondo per scoprire minacce note ma che risultino pure nascoste oppure anche per individuare minacce ignote le mail sono inoltre scansionate alla ricerca di virus con 5 motori differenti tutto questo per ottenere un giudizio e non già un semplice punteggio queste altre tecniche di filtraggio proprie del contenuto quindi non della reputazione consentono un raggiungimento di percentuale di efficacia tra il 95 e il 99% della soluzione di antispam quindi abbiamo ottenuto dei risultati decisamente importanti relativamente alla protezione della posta ecco per quanto riguarda l'antivirus torniamo immediatamente mi ero fermato un attimo sul discorso del time zero l'antivirus che adotta SonicWall all'interno della soluzione ML Secure un antivirus come vi dicevo multilivello integra tecnologia antivirus multiple abbiamo 5 motori diversi il sonico il grid antivirus il sonico il time zero siren mcafee e kaspesky con il risultato di una protezione decisamente superiore rispetto a tutte quelle soluzioni che si basano su un singolo motore antivirus clama V delle varie soluzioni delle varie soluzioni basate su cloud la soluzione quindi protegge non solo da virus noti ma anche da virus sospetti i cosiddetti likely virus e questa soluzione è portata avanti dal time zero virus protection che usa delle tecnologie predittive in questo caso per proteggere le aziende dall'infezione di nuovi virus prima che un aggiornamento delle signature virali sia disponibile le meni fatti identificate come sospette vengono immediatamente spostate in quarantena salvaguardando quindi la rete per il tempo che intercorre dall'individuazione del lancio del nuovo virus fino a quando questo virus viene fino a quando viene reso disponibile la signature per quell'antivirus quindi il time zero è un compito di cautelativo no? quindi dice non so cos'è la mente in attimo in quarantena entro dicembre di quest'anno la protezione verrà estesa anche a virus conosciuti grazie ad un secondo step di integrazione con il servizio di sandboxing capture dedicato esclusivamente all'ML security se vi ricordate il webinar del mese precedente dedicato al ransomware la protezione della posta era responsabile di un buon 40% dell'infezione da ransomware ecco allora che avere uno strumento che consente di gestire con signature gestire in maniera predittiva gestire in maniera analitica a livello di sandboxing quelle che sono le minacce sconosciute consente veramente di avere un livello multiplo di gestione che dà dei benefici sostanziali nella protezione della posta elettronica un altro elemento fondamentale per quanto riguarda le soluzioni di my security è il servizio di cretazione è un servizio in laboramento fornisce quindi la criptografia delle mail in modalità integrata sia mediante riforzo di una specifica regola sia on demand quindi se scansionando il traffico mail in uscita compresi gli allegati alla ricerca di dati sensibili e questi vengono individuati determinano un redirect al sottosistema di criptazione per uno scambio sicuro con i propri clienti e partner quindi possiamo creare quindi proprio delle policy le mail criptografate possono essere tracciate per confermare la data di ricezione e il momento dell'apertura come avviene il delivery una mail di notifica viene inviata nella inbox del destinatario con delle semplici istruzioni di accesso ad un portale sicuro per consentirgli quindi di leggere queste mail oppure di scaricarle in modalità protetta rispetto alla concorrenza questo tipo di servizio consente di leggere le mail criptografate anche da dispositivi diversi dal normale pc quindi smartphone e tablet e l'accesso avviene tramite del credenziale custom spedita all'interno della mail di invito per collegarsi al portale una volta ricevute queste credenziali sarà necessario inserire la propria password per accedere e verificare poi il contenuto di quella mail che potrà essere solamente visualizzata oppure anche scaricata oltre al modulo di accreditazione abbiamo il modulo di compliance anche questo è un modulo in abbonamento che consente quindi di proteggersi in maniera significativa contro i data leaks e le violazioni di conformità regolamentari il contenuto delle mail e delle legate sono scansionati in questo caso alle ricerche di specifiche parole chiave o di precise tracce alfanumeriche in questo caso abbiamo la funzionalità che si chiama record ID matching in cui alcuni sono già definiti ad esempio il numero di servizio sanitario sociale il numero di carte credito eccetera e altri invece sono assolutamente customizzabili o se ne posso creare di propri un match di un record ID innesca quindi delle precise reazioni codificate e configurabili quindi possiamo decidere che cosa fare in base a quella violazione della compliance in modo di compliance prevede inoltre di utilizzare dei dizionari già inclusi sono quello medico e quello finanziario in inglese per identificare violazioni di conformità questi possono essere customizzati come pure possono essere creati i propri dizionari magari mi interessa quello di un'attività manifatturiera specifica del cliente che produce minuti e richiametalli che posso creare un mio dizionario in modo da prevenire che determinati documenti contenenti la parola testa a stella ok possano uscire dalla mia rete attraverso la posta elettronica le mail identificate come contenenti dati protetti possono essere poi ruotate verso una plural box quindi anche qua abbiamo una decisionalità su cosa poter fare poi con quella mail che matcha un profilo di compliance quindi possiamo utilizzare una plural box possiamo mandarla a un sistema di archivazione interno o esterna oppure ruotarla anche su un'email di un servizio di encryption e decryption tracciando nel contempo questa attività anomala e quindi avere una funzione di dlp completa sulla posta con l'ultimo aggiornamento dell'email security 8.3 che è quello attualmente disponibile siamo già disponibili ok sul mysonico abbiamo delle novità abbastanza sostanziali innanzitutto abbiamo un nuovo motore di scansione che prevede un numero più elevato di tipologie di tracce di firme che in questo momento che adesso possono essere analizzate a distanza di a distanza temporale di ogni minuto prima dell'8.3 l'email security si aggiornava ogni 5 minuti con l'8.3 invece l'aggiornamento è ogni che può essere scusatemi può essere configurato fino ad un intervallo temporale di ogni minuto abbiamo un retrained filtro basiano quindi un filtro basiano che è stato nuovamente mi scappa la traduzione che è stato nuovamente addestrato quindi per ottenere un migliore catch rate per quanto riguarda lo spam e un numero molto più basso di falsi positivi è stato introdotto l'SMP Authentication Support che consente quindi adesso di attivare l'autenticazione SMDP e molto molto importante è stato aggiunto un nuovo modello di addestramento della macchina basata sul machine learning quindi è una nuova tecnica che usa il supporto a macchine vettoriali un approccio a macchine vettoriali per identificare lo spam inizialmente questo è previsto solamente in inglese e se seguite in maniera abbastanza sistematica gli aggiornamenti delle varie soluzioni anche proposte a Sonic di recente avete sentito parlare di Siren Siren scusatemi di Silence Siren è una soluzione che introduce per la prima volta l'intelligenza artificiale e il machine learning all'interno di uno strumento di protezione dell'endpoint e quindi completamente privo di signatura ecco una tipologia di analisi analoga è stata introdotta nel motore di analisi delle mail security con quindi questo tipo di supporto di intelligenza artificiale che analizza i contenuti e ne determina e concorre quindi a determinare il giudizio sulla mail quindi decisamente uno strumento avanzato di controllo siamo quasi alla fine ragazzi un attimo solo ancora di pazienza un attimo solo di pazienza l'mail security è anche fornita come soluzione host come abbiamo detto prima è un servizio che è fornito in cloud che ha quindi l'ulteriore vantaggio e non ha poco soprattutto in un paese come il nostro dove al di là degli annunci dei programmi di agenda digitale eccetera il digital divide è presente più o meno a tutte le latitudini ha il vantaggio di preservare la banda del cliente in quanto le mail cattive sono bloccate nel cloud e solo quelle buone viaggiano verso il mail server del destinatario quindi non andiamo a fare congestione se consideriamo che il traffico email per l'80 85% è spam se l'utente non ne riceve ha una buona o ne riceve molto poco ha una buona salvaguardia di banda il servizio è molto semplice da attivare e da gestire attraverso il portale quindi abbiamo un portale che poi ci riporta all'interno dell'host di mail security che è analoga alla soluzione mail security tradizionale abbiamo la possibilità di gestire fino a 15 giorni di stoccaggio della quarantena direttamente in cloud e di fare lo spooling in caso che il server ricevente non sia disponibile fino a 7 giorni quindi un vantaggio assolutamente sostanziale e il costo è ovviamente un costo di abbonamento basato sul numero di caselle quali sono le funzionalità abbiamo una dashboard in real time che è completamente configurabile che ci consente di andare a creare di andare a creare i nostri cruscotti di analisi delle varie soluzioni con funzionalità di drag and drop abbiamo il modo di compliance abbiamo il DMARC per quindi la protezione del brand reputation abbiamo la possibilità di gestire multi tenant quindi la soluzione una soluzione che è strutturata per operare anche in modalità managed security service provider e quindi il multi tenancy viene assolutamente gestito con oggi funzionalità di configurazione di rete harvest attack individuazione di zombie e opzioni di protezione dei flood e poi l'email encryption quindi la possibilità anche nel servizio host di poter gestire la creatazione delle mail parliamo quindi dell'hosted email security arrivato al 3.0 che è anche un prodotto che ha ricevuto sicuramente degli award da riviste importanti ecco la soluzione main security per security service provider manager service provider è una soluzione che ben si presta ad essere gestita le manager service provider interessate soprattutto ad offrire come servizi ai propri clienti molti di voi hanno alcuni di voi hanno sentito parlare della soluzione della proposta security as a service quindi proposta che viene formulata con una vendita del servizio di protezione quindi veicolata tramite distributore canale e utente finale nello step 2 di questo security as a service viene introdotto anche le soluzioni in mail security quindi potranno essere rivendute con un modello di business as a service quindi con un canone sostanzialmente mensile ai propri clienti consiglia infatti una gestione centralizzata di clienti multi quindi abbiamo la possibilità di gestire uno o più domini per ciascun cliente abbiamo la possibilità di configurare in maniera granulare impostazioni filtri antispam antifishing antivirus per dominio per gruppo per utente abbiamo una riportistica per globale oppure per dominio abbiamo la possibilità di fare un completo rebranding dell'UI per averla quindi configurata sulle esigenze della nostra fornitura di servizio quali sono quindi ci siamo quali sono quindi i key takeaways di questa nostra sessione odierna innanzitutto il fatto che le soluzioni di security di The SonicWall sono soluzioni di provata esperienza più di 10.000 installazioni più di 2 milioni di caselle di mailbox protette abbiamo la supporta 14 linguaggi differenti l'ultimo stato inserito con l'8.3 è il finlandese abbiamo installazioni molto grandi con decine centinaia di migliaia di mailbox e supporto 24x7 abbiamo sicuramente una soluzione che è leader di mercato vi ricordo che SonicWall e Mail Security è una soluzione che è stata acquisita con Mail Frontier già da SonicWall Mail Frontier era uno dei player principali del mercato enterprise delle soluzioni di anti-spam vi dicevo prima che ha 14 brevetti già approvati e molti in attesa di approvazione e una valutazione all'interno delle riviste del settore decisamente molto elevata la SC Magazine in questo caso ha dato diversi tipi di premi è stata finalista in diverse competition sempre organizzate da grosse riviste di settore bene per tutti voi che oggi avete partecipato siamo in 28 un risultato molto positivo per tutti voi c'è assolutamente un premio fedeltà siamo vicini all'estate abbiamo voglia di condividere con voi queste possibilità di conoscenza di approfondimento della soluzione quindi per tutti i partecipanti al webinar di oggi che ovviamente vi ho tracciato insegnato e abbiamo intrativato in collaborazione con SonicWall un'offerta sensazionale valida per i prossimi 30 giorni quindi con scadenza al 37 quindi abbiamo una soluzione email security virtuale da 25 utenti provvista del bundle total secure dentro ci sono tutta la parte di antivirus tutta la parte di antispam tutta la parte di compliance manca la parte di encryption che è con un servizio a sé stante che viene scontata del 50% quindi vi diamo la possibilità per la prima volta di acquistare una soluzione email security di virtual appliance in modalità nfr quindi a 730 euro a voi i vari partecipanti riceveranno un codice con un voucher che gli darà diritto poi quindi ad avere questo tipo di scontistica quando ci faranno la richiesta e come dicevo fino al 30 luglio c'è questa possibilità sono tutti codici elettronici normalmente esiste la soluzione email security modalità nfr però è esclusivamente hardware quindi finora la virtual appliance visto che economicamente è già molto vantaggiosa non era stata mai presa in considerazione per voi invece questa proposta è stata portata avanti ok io vi lascio qui la bibliografia con cui abbiamo operato per realizzare questo tipo di presentazione di cui la gran parte è derivata dalla presentazione proposta da Thomas Burgess che è un system engineer di SonicWall svizzero durante il peak performance di Malta quindi diciamo ho capito a mani basse da là poi traducendola e rendendola disponibile sarà disponibile anche in questo caso sul sarà disponibile anche in questo caso sul nostro canale youtube il prima possibile dopo la revisione vi chiedo quindi di potervi iscrivere e per oggi con il nostro quarto d'ora di ritardo abbiamo abbiamo concluso quindi intanto vi ringrazio a tutti qualsiasi domanda che avete da adesso in poi potete tranquillamente fare tramite chat piuttosto che tramite voce cliccando sul tasto parlare adesso ve lo lascio aperto vi linko nella chat anche il link al survey in modo da consentirvi di darci un riscontro sulla vostra esperienza di oggi per ovviamente poi migliorare quindi la nostra performance e magari anche adottare altri altri argomenti dopo ok domande ok passiamo